Ancora gioia, sorrisi e preziosi momenti di condivisione all'Istituto Scolastico Enrico Solito di Gela. Vanno in scena gli alunni per uno spettacolo di commiato prima della pausa delle vacanze e natalizie. Musica, canto e coreografie per dirsi arrivederci al prossimo anno. Il dirigente scolastico Clizia Nobile. È il secondo anno che la nostra scuola Enrico Solito organizza questa festa. È la festa del saluto dei bambini di 5 anni alla scuola primaria e dei bambini della quinta classe della primaria che salutano le loro maestre. C'è il passaggio del testimone. È una grande festa. Con la scusa del Natale i bambini di 5 anni e delle classi quinte si incontrano per poter festeggiare insieme questo loro passaggio e dove i bambini più grandi chiaramente fanno una consegna importante, si raccomandano di stare bene con le maestre che lasceranno loro perché quelle sono le maestre che loro avranno sempre nel loro cuore.